Amici, siamo andati sull'amber, c'era l'acqua che la spucia e fa su la canna e se non c'è sulla musa. Adesso cerchiamo di prendere qualche barbo, siamo tutti a covacciare, perché qua ci sono i pesci che non bisogna disturbarli. Adesso siamo sulla musa, se i pesci non ci fanno no, fermo i canni e andiamo sul po. Amici, abbiamo ripiegato sulla musa e abbiamo incannato già un barbo. Bello, ma le riprese vanno fatte dall'altra parte, perché ci abbiamo solo il conto. Ma che bello. Ecco che molliamo il barbetello, il barbatello. Vai sbarbato. Uè. Il matto da eliminare. No, no, vai, vai, va. Lo riprendo da lì. Valbetto. Valbetto dove lo metto? Lo metto nella città. Lo mettiamo nel retino. Valbettino. Ecco. Valbettino. Hai messo? Sì, sì, sì. Peppe è incannato un altro barbotto. Tirio su di te. Criminale. Sono belli questi. Questi qui sono nostri, sì? Sì, sì, questi sì. Ma che bello. Un barbetto. Sì, l'hai preso l'arrampato anche te. Vedi che quelli lì. Lo rompono in terra. Il barbetello. Il barbatello. Vai sbarbato. Uè. Il matto da eliminare. No, no, vai, vai. Lo riprendo da lì. Ecco, ragazzi. Vai. Vai. E qua. Lo hai. Lo hai. Lo hai. Lo hai. Però vai avanti che quando vai via... Ecco che sta andando via. No, no. Ok. Vai sotto. E qui. Non è di eccezionale. Vabbè, però è più bello. Questo è già discreto, Carlo. Buona. Buona. Andato. Ecco il barbiglio. Oggi è la marmellata di barbie, ragazzi. Buona. Vai. Ecco il rilascio, ragazzi, del barbetto. Allora. Ecco che è andato. Piscinela. Andiamo su così. Un barbello. Opla. Tanto abbiamo sul 12, bello robusto. No, si spacca. Vai, con il rilascio. Ecco qua, ragazzi, il barbotto. Vai. Via. 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 Grazie a tutti.